Oh, chissà, posso riuscire a finire? Oh, chissà, posso riuscire a finire? Oh, non si... Questa è un pesce stato di compagno Arbe Ancora Non per il confronto Non c'è nulla Non c'è nulla Non c'è nulla Stardo Usi la pubblica Scaaaaaaaaaa Grazie. Grazie. Scusa, sei un corriere? Vabbè. Grazie. Scusa, sei un'altra. 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 Sei un'altra. Scusa, sei un'altra. Sei un'altra. Sei un'altra. Scusa, sei un'altra. Sei un'altra. Scusa, 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 sei un'altra. Ok. 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 Con Creo ho fatto 12 vultane. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 Sì, non è vero. C'è un cappetto per me. No, 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 no Grazie a tutti. 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 You test tube freak. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chris. Grazie a tutti. 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 Let's get going. ... Il sistema distruttivo è stato benato Allo personnel deve essere evaporato immediatamente Deactivate e rilasci i chargedi All CS Scrivevi Alla Scrivevi 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 Alla Deactivate E si Alla Scrivevi Di Alla Deactivate Alla Alla Scrivevi Detali Scrivevi Scrivevi allas La self destructiva ha creato. All persons evacuati e immediatamente, reactivate e libero tutti i luci. La self destructiva ha creato. All persons evacuati e immediatamente, reactivate e libero tutti i luci. Sì, 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 sì. and releasing all locks The self-destruct system has been activated All personnel must evacuate immediately Deactivate and releasing all locks The self-destruct system has been activated All personnel must evacuate immediately Deactivating and releasing all locks The self-destruct system has been activated This is Brad, recording out a funeral This is your last chance If there's anyone alive, give me a sign I repeat, this is your last chance The self-destruct system has been activated All personnel must evacuate immediately Deactivate and releasing all locks The self-destruct system has been activated All personnel must evacuate immediately Deactivate and releasing all locks Deactivate and releasing all locks The self-destruct system has been activated All personnel must evacuate immediately Deactivate and releasing all locks The self-destruct system has been activated All personnel must evacuate immediately All personnel must evacuate immediately Deactivate and releasing all locks Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.